Il robot DaVinci è il sistema robotico sicuramente più famoso per lo svolgimento di operazioni di chirurgia laparoscopica minimamente invasiva, in grado cioè di operare in una cavità anatomica molto ridotta, minimizzando la dimensione delle incisioni necessarie per l'intervento sul paziente e migliorando quindi sia la qualità dell'operazione che i tempi di recupero. Gli interventi sono eseguiti dal chirurgo interl'operazione, attraverso una console dedicata, da cui può controllare i bracci del robot ed osservare l'operazione a distanza. Il sistema è estremamente avanzato, in grado di attenuare i tremori e garantire una precisione maggiore nel movimento umano, ma ha un costo ed una complessità elevati, richiedendo da una parte risorse economiche significative per le strutture ospedaliere e dall'altra una buona preparazione ed un'adeguata pratica da parte del chirurgo per il suo utilizzo. Utilizzando dei modelli messi a disposizione dalla casa produttrice le risorse informatiche condivise nella comunità scientifica, qui al DIAG abbiamo sviluppato, in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, un simulatore del Da Vinci di un ambiente virtuale, riproducendone fedelmente i componenti, le proprietà meccaniche e i sensori con cui è equipaggiato, in particolare i sensori di posizione dei giunti e la camera endoscopica necessaria ad acquisire le immagini della scena operatoria. Il modello virtuale del robot può essere così controllato a distanza in modo analogo al robot reale, reindirizzando i comandi della console al simulatore. In questo modo siamo in grado di sviluppare applicazioni orientate al training del personale medico, implementando dei semplici compiti di telepanipolazione che richiedono esperienza e destrezza da parte dell'operatore. Allo stesso tempo il simulatore può essere impiegato anche per testare e validare algoritmi di controllo per lo svolgimento autonomo di specifici compiti assegnati. Per massimizzare infine l'accessibilità e le potenzialità del nostro simulatore, abbiamo sviluppato un'ulteriore funzionalità che permette di sostituire la console di comando del robot reale con un visore di realtà aumentata ed una coppia di interfacce aptiche. In particolare, tramite il simulatore, l'utente ha la possibilità di comandare il braccio robotico centrale, sul quale è montata la camera che acquisisce le immagini dall'ambiente virtuale, attraverso i movimenti della testa rilevati dal visore. In parallelo, la coppia di interfacce aptiche permette all'operatore di comandare i bracci laterali del sistema, equipaggiati con delle pinze, e fornisce allo stesso tempo un feedback di forza sulle collisioni o sui contatti virtuali delle pinze con gli oggetti presenti all'interno dell'ambiente simulato, dando così all'operatore la percezione di interagire fisicamente con gli oggetti stessi.